Salutatevi. Ciao Saverio. Salve. Nome e cognome. Pietro Mancuso, ma tutti mi chiamano Piero. Da Saverio Loiero. Lista di appartenenza. Insieme Persimeri Cricchi, lista numero uno. Lista numero due. Nomi dei candidati a memoria. A memoria. Allora, Gaetano Nania, Lorenzo Commisso, Domenico Garcea, Franco Alberto, Caterina Zangari, Saverio Brutto, Salvatore Colau, Eugenio Grande, Pierluigi Folino, Angelo Diapiana e chi dimentico? Giuseppe Palaia. A memoria. De Luca, Di Fabiano, Salerno, Rotella, Gero, Mirante, Lorenzo, Elia, Costa, Licopoletta e Biondi, se non mi sbaglio, se non ho dimenticato qualcuno. In poche parole, da cosa è nato il logo della lista? Allora, il logo della lista viene da una mia idea, che che se ne dica? E rappresenta in un disegno quello che è poi l'essenza della lista stessa, cioè una lista rappresentativa di tutto il territorio. Il logo è emblematico in tal senso. Il logo della lista, guarda, era nato perché hanno voluto i ragazzi, io ho scelto un altro nome, poi mi hanno detto no, incontriamolo sulla sua persona, visto che noi vogliamo ricondividere questo percorso che avete già fatto e concentriamoci sul vostro essere sindaco. E quindi mi ho aderito a concentrarci su di me, anche così avrei attirato, oltre che le simpatie, anche le contumeli, le probabili contro di me, quindi mi sono esposto anche come scudo. Da cosa nasce l'idea di candidarsi a formare una lista elettorale? L'idea? Allora, diciamo che innanzitutto c'è una velletà personale, ma come dicevo in altre occasioni, la velletà personale da sola non basta. È necessario che sulla persona si formi un consenso diffuso. E se la comunità di Simeri Cricchi ha deciso oggi che gli orientamenti siano due, vuol dire che effettivamente la mia velletà ha trovato un riscontro nel consenso elettorale. Guarda, io come sai sono stato già sindaco per dieci anni, ho iniziato delle cose, non sono riuscito a completare per varie situazioni. Credo che fosse necessario, che fosse utile, che era giusto che queste cose fossero portate a compimento. Questo scrupolo di non aver completato un'opera di sistemazione delle regole per il sistema di occupazione, voglio dire di concludere un'opera di ingegneria, di opportunità per chi i giovani di Simeri Cricchi abbiano un'autonomia economica all'interno del proprio comprensorio. Credo che queste due opere, come ormai noto, mi riferisco ad Arsena e al Golf, possano dare un'opportunità importante di scelte di lavoro, di opportunità, di formazione, di meritocrazia e di libertà. Quali sono le fondamenta che sorreggono la sua lista? Allora, innanzitutto abbiamo dei giovani ed è la cosa più importante per me, perché io non voglio fare il sindaco per dieci anni, io voglio fare il sindaco del mio territorio per la passione del territorio e affrontando la quotidianità, l'efficienza dei servizi essenziali e un occhio importante sul mondo del lavoro, partendo dalle cose, dalle varie opportunità che sono in cantiere e che stanno da tempo a decantare. Fondamente intanto è la semplicità, che è la realtà e l'umiltà. In tre punti il suo programma è elettorale. Quotidianità, efficienza dei servizi, mondo del lavoro, assistenzialismo, welfare, attraverso lo sfruttamento delle associazioni esistenti sul territorio, che ritengo siano un asse portante della comunità di Simeri Cricchi. L'impegno che ci accingiamo a fare è quello di creare una sorta di sistema con la vigilanza del comune, con una delega assessorile che vada a coordinare tutte le associazioni, senza far perdere la loro autonomia e il loro oggetto, lo scopo sociale che si prefiggono. Il programma è intanto dare gli servizi subito alla cittadinanza, in particolar modo a quella parte della cittadinanza che Simeri Mare, che negli ultimi cinque anni è stata privata da quelle che sono le condizioni primarie. Puoi concludere quest'opera in tutto il paese per consentire una qualità della vita decente e dare delle opportunità economiche a chi non ce l'ha per avere pari dignità. Se la popolazione la eleggerà sindaco, su cosa le preme agire immediatamente? Eh beh, sicuramente abbiamo una serie di esigenze, ma un'esigenza fondamentale è quella di dare vita al nostro giardino, un giardino che è stato trascurato. Il giardino di Simeri Cricchi è la zona di mare, che è la vera vocazione del territorio dalla quale si può trarre moltissimo per tutta la comunità di Simeri Cricchi, senza tralasciare tutte le altre cose. Però sicuramente l'aspetto turistico, che è una vocazione, perché abbiamo quattro chilometri di spiaggia, è quello che effettivamente non dà il suo pieno risultato, la sua efficienza massima. Su queste cose che ti ho detto adesso, la prima cosa è fare una valutazione del territorio, vedere quali sono i grossi punti di nebolezza e di criticità e porre subito un rimedio con importanti opere d'urgenza. E poi iniziare subito un lavoro di programmazione, in particolar modo lì alla regione con i fondi in via europea, e lì vedere perché Cricchi non è stata lì inserita nella programmazione di via europea, e per disporre subito qualche scheda progettuale per qualche opera strategica. Perché Simeri Cricchi dovrebbe scegliere lei e la sua lista come prossima amministrazione? Beh, qui è una domanda molto complessa. Noi ci proponiamo come un movimento di cambiamento. Cambiamento da cosa? Cambiamento non tanto dalla competenza, dalla passione, quella ce l'abbiamo tutti. Cambiamento inteso come metodo di amministrare le opportunità che questo territorio può offrire. Nel mio programma, nei principi ispiratori, c'è anche quello della solidarietà. E ritengo che, specularmente al modo di fare della lista avversaria, la solidarietà è il principio, insieme alla sussidiarietà, che deve ispirare poi la spartizione di queste opportunità. Partendo dunque da quelle famiglie che non hanno nemmeno una fonte di reddito, specularmente a quelle famiglie che invece hanno degli introiti. Forse in questo è la differenza. Ma guarda, io credo che possiamo dare una sintesi. Io posso anche rappresentare un minimo importante che di continuità con il passato e con una positività di gestione. Dall'altro ho con me un gruppo di giovani importanti dal punto di vista della consapevolezza, della responsabilità e della preparazione. È un sistema di culturale e di competenza che fino adesso, credo, a Cricchi non c'è stato. È uno smaccato nuovo. Giovani di professionisti che si offrono, che si adoperano, che si rendono disponibili per un contributo al paese. Abbiamo che prenderne atto e noi dobbiamo che lavorare per la futura classe dirigente del paese. Chi è più portato per la vita politica? Lui. Io l'ho sempre fatto. Il mio antagonista non ne conosco traccia. Chi è più bravo come avvocato? Lo devono dire gli altri. Io dico lui perché è il mio mentore. Ma questo lo so, non c'è che decidere ai giudici. Chi vince più cause? No, credo che, insomma, il modus operandi sia quello. Che dovevi so dire? Chi è più bello da vedere nei manifesti elettorali? Io. Ah, io è bello che non so di certo, perché lo sono stato da ragazzo. Chi alza di più il tono della voce durante i comizi? Fino adesso sicuramente lui. Io non ho ascoltato quello che è il mio antagonista. Io in certe circostanze alzo molto il tono. In altre, quando gli argomenti che non lo consentono, lo bodero molto. Su cosa si fonda allora un buon comizio elettorale? Io credo che il comizio, la legge parla di riunioni, di propaganda elettorale e o di comizi. Quasi volendo distinguere due sedi, forse il comizio è il momento più pubblico rispetto alla riunione che si tratta, che riguarda un numero più circoscritto di soggetti. Però nel corso dell'una e dell'altra ritengo che uno debba dire chi è, da dove viene, quello che vuole fare, perché deve votare quella lista. Intanto devi sapere chi hai di fronte, che tipo di pubblico hai, che tipo di afflato ti manifestano, che tipo di empatia che va creata e poi che tipo di programmazione hai durante una campagna elettorale, perché il tuo compito non è quello di suscitare ilarità oppure la simpatia. Il tuo compito è quello di comunicare. Il comizio serve a questo, a dire delle cose, a comunicare quali sono i tuoi programmi, a far rilevare punti di debolezza dell'antagonista e su questo cercare di essere il più possibile di convincente e chiaro. Descrivi in una parola il tuo avversario politico. Istrione. Ti fa ridere? Ma lo dico simpaticamente, lui lo sa, lo dice anche lui di se stesso, quindi è vero. Che vorrei evitare? E adesso interrompiamo l'intervista 2 per concentrarci sui candidati singoli. Iniziamo con il candidato alla lista numero 1, Pietro Mancuso. Prima volta in corsa come sindaco, avvocato? Sì. Molti la vedono come il sindaco di Simerimare. Cosa risponde? Ma è una fesseria, è una grande sciocchezza. La mia lista è un'espressione di tutte le frange che compongono questa comunità, le più disparate, di colori diversi, di tradizioni diverse, di origini diverse. Però ritengo che sia proprio questa la forza della mia lista, perché ogni frangia può avere una cassa di risonanza attraverso i miei candidati a consigliere di comunale. Uno dei fatti maggiormente messi in discussione è stato quello del suo passato in politica con l'avvocato Loiero. Perché è ora la scelta di formare una lista tutta sua? Allora, devo fare una premessa. Innanzitutto non è un precedente nella storia di Simeri Cricchi, perché negli anni si è verificato spesso questo fenomeno, avevamo Barberio, anzi ancora Russetti, Barberio, Tranco primo insieme, poi si sono rimescolati, Saverio contro Valentino primo e poi si sono riuniti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non è la prima volta per Simeri Cricchi. La domanda era? Perché era la scelta di formare una nuova lista? Una lista tutta sua? Ma ho risposto già prima a questa domanda, si è partiti da una velletà personale che poi è stata condivisa e i candidati sono stati in un certo senso individuati dalle varie frange. Ogni candidato ha dietro una sorta di rete che gli consente di poter partecipare ad una campagna elettorale. Il candidato singolo, la famiglia del candidato singolo da solo non può bastare in questa competizione elettorale. Già fin dall'inizio si prospettavano i due orientamenti. Ci sono stati dei focolai, altri signori, altri concittadini che hanno cercato magari di competere anche loro attraverso la presentazione di una lista, però sono focolai che poi con il tempo si sono spenti. Dunque l'idea è la sinergia di tutte queste cose, il risultato della lista. Ma ci dica la verità, è vera la storia dei santini nella scuola elementare di Roccani? No, è stata strumentalizzata la notizia anche perché poi pubblicamente sul punto è stato riferito, è stato associato al mangiare dei bambini e dunque sembra quasi un'azione un po' paradossale, un po' come dire, è stata enfatizzata per creare terrore, perché alla fine c'è anche questa strategia dal punto di vista elettorale. La verità è che come accade, spesso e volentieri chi si procaccia il voto va da amici, parenti ed imprenditori. Così come si fanno le cene con gli imprenditori e i dipendenti di Simeri Cricchi, allo stesso modo c'è stato Saverio Brutto che è in ottimi rapporti con l'azienda senza fare pubblicità, con l'azienda che somministra il cibo a scuola e questi santini era il materiale che Saverio Brutto aveva consegnato all'imprenditore per dar seguito ad una campagna elettorale. Questo materiale che non era nel mangiare dei bambini è stato ritrovato da qualcuno che appartiene all'altra lista, perché sono sicuro che se si fosse trattata dei santini della lista dell'avversaria sicuramente non sarebbe uscito fuori, ma poi ci sono ulteriori retroscena, ma non è adesso il momento. Diciamo come sono andati i fatti, i bambini non c'entrano nulla. Su cosa si sente maggiormente avvantaggiato rispetto allo iero? Ci sono una serie di componenti, io provengo dal mare e il mare per una serie di coincidenze legate sicuramente allo stato di abbandono e di trascuratezza forse vede in me il momento della manutenzione straordinaria e questo è un aspetto. Poi c'è un ulteriore aspetto che è dato dai rapporti personali, di parentela, del fatto di essere i dissimeri crichi, i simpatizzanti, i rapporti professionali e poi c'è una grande fetta della comunità che ha già avuto modo di giudicare, il modo di far politica della lista avversaria e che si ritiene delusa e raggirata. Come vede il Paese tra cinque anni con lei a capo dell'amministrazione? Tra cinque anni? Cioè nel senso che vinco adesso e poi tra cinque anni? Ho già risposto a questa domanda, non voglio fare il sindaco per dieci anni, voglio fare politica seria, di gestione del territorio, di impegno per individuare nuovi posti di lavoro, sfruttando quello che c'è, dove siamo e quelli che siamo. Nel contempo formare una classe dirigente di giovani che apprendano nel corso della mia amministrazione un metodo, un modo di far politica e di gestire quelle che sono le vocazioni del territorio. E con Loiero invece? Non vince. Ci concentriamo ora sul candidato a sindaco, Saverio Loiero. Avvocato, possiamo dire Loiero il ritorno? Chiarito. Dunque è già stato sindaco a Simeri Cricchi. Nel caso in cui dovesse tornare all'amministrazione si riparte da dove aveva interrotto cinque anni fa o si ricomincia da zero? Si comincia da quello che è possibile, da quello che è ricostruibile, da dove si è lasciato, ma credo che molto poco. Da queste due grandi opere si ricomincia dove si è lasciato e cercando di ricomporre alcune macerie che si sono in questi anni realizzate. Per il resto si comincia da zero. Per i suoi avversari il ritorno come amministratore del paese è un qualcosa di già visto, che dunque non porterebbe nulla di nuovo. Che cosa risponde? Non vedo in cosa consista che è la novità. La novità non è un palcoscenico, il comune dove c'è bisogno di una subrette ogni volta che c'è un cambio di scena per allettare che lo spirito, che i spettatori. Quello che l'amministrazione chiede è la capacità, è la coerenza, è l'essere utile al proprio paese. Non credo che questo si verifichi con un volto nuovo. Questo si verifica anzi con una coerenza e una continuità di strategica. In un suo pubblico comizio ha detto ai cittadini, cogliete l'opportunità perché dopo questi cinque anni non ci sarà più speranza. Cosa intende dire? Vedo dire che questi sono i cinque anni cruciali. Già si è perso cinque anni che è il passato perché non sono state portate a termine queste opere, perché la regione sta facendo una programmazione importante in questi giorni proprio per le opere. In Calabria il comune è assente da tutta la programmazione di Europa, è assente da tutta la programmazione di tutte le opere utili lì per il paese. Se andiamo avanti ancora in questo modo, un po' cambierà anche lo scenario, perché i comuni saranno accorpati, perché saranno le aree vaste, perché sta cambiando anche lo scenario. Chi perde la propria autonomia, chi perderà la propria possibilità di utilizzare che le risorse che ha. Su cosa si sente maggiormente avvantaggiato rispetto a Mancuso? Ma un dato che l'esperienza è da essere riconosciuto di più di altri. Come vede il paese tra cinque anni con lei a capo dell'amministrazione? Ma come lo sogno, come lo vedo, come lo sogno? Lo sogno con i giovani che hanno dell'opportunità di lavoro, hanno un reddito minimo, hanno una capacità lavorativa che è dovuta alla loro meritocrazia, sono stati scelti per che le proprie capacità non sia stato io a indicarle a nessuno. E con Mancuso invece? Non lo so, non lo so. Io sto parlando di sogni e quell'altro non è un sogno, quindi non ci vuole un bagno. Eccoci rientrati nuovamente insieme. Allora, dalle interviste personali vi devo dire che è emerso e che vi state davvero molto simpatici, ci credete? Eh, ho qualche dubbio. Io riesco, io credo di riuscire a scendere i due piani, quello politico e quello personale. Lui no. Che gli ho voluto bene perché me lo so cresciuto, sia lo studio che l'ha. Ma come sta ricomportando di recente non credo che meriti più la mia stima e il mio affetto. Ma è vero che in politica, come in guerra e amore, tutto è lecito? No. No, perché la politica, per quello che è il livello della politica a Simeri Cricchi, direi proprio di no, non ne vale la pena, perché poi la politica passa e restano gli uomini. Non credo proprio, sono delle regole odontologiche, delle regole etiche che non vanno mai trabalicate. Qualsiasi sia l'esito delle elezioni, vi rivedremo nuovamente in campo politico? Ma ho già risposto a questa domanda. Sto dicendo che voglio fare il sindaco per cinque anni e alla fine dei cinque anni passare il testimone a chi è stato insieme a noi in questi primi cinque anni. La politica deve appartenere ai giovani. Certamente sì, se ci saranno con l'opportunità, se c'è spazio per me, non è un diktat, non è un imperativo categorico. Se ci saranno delle chance, in queste chance c'è spazio per me e se sarò utile per queste chance, anche io ci sarò in queste nuove performance. Ma se dovessero esserci ho un mio lavoro, la mia famiglia, ho tanti altri hobby, anche se la politica non è un hobby, ma è un impegno civile. Posso preoccuparmi di tante altre cose. Chi è più convinto della vittoria? Io sono una persona molto razionale, non mi esalterò mai, non mi sono mai esaltato. so che ho a che fare con la comunità e se io non riesco a mettere d'accordo i quattro membri della mia famiglia, non posso avere la presunzione di mettere d'accordo una comunità. Ma la domanda era? Chi è più convinto della vittoria? No, io ho avuto dei dubbi fino a quando la comunità non si è delineata. Nel momento in cui si è arrivati ad avere due liste, la vittoria è mia. Ma guardi, io non è un fatto di convinzione. La mia è una determinazione e io credo che vincerò, anche per un sondaggio che le recenti hanno fatto, che degli amici hanno fatto, non per me, ma per tutta la provincia, mi hanno fatto vedere, sono avanti di 300 voti. Credo che vincerò perché alla fine quello che prevarrà è la consapevolezza della maturità e della certezza del passato. E se dovesse perdere? Se perde sicuramente ci sarà la delusione, però non dovrò rimproverarmi sicuramente nulla rispetto a quello che ho fatto e il giorno dopo andrò a lavorare come tutti i giorni. Se dovesse perdere anche me ne farò una ragione. Ho un'attività. C'è qualcosa che vi accomuna? No, non credo. Siamo molto diversi. Ci ispiriamo a principi di vita ed etici sicuramente diversi. Perché da sotto avete nulla? L'intervista è finita. Siete dispiaciuti? No, perché sono stressatissimo. Sì, mi stavo trovando bene con voi. Ok, salutatevi di nuovo. Ciao Saveri, in bocca al lupo. Salve di nuovo. Ora salutate i cittadini che vi voteranno. Non mollate fino alla fine. Ci siamo. Mi auguro che il vostro contributo ci sia, perché è un contributo che crederete a voi e a noi stessi. Ora invece quelli che non vi voteranno. Ci rivedremo dopo il 5 giugno. Spero che invece voi cambiate idea. Adesso entrambi, compresi gli astensionisti. Da rivederci. Saluto i cittadini di Simeri Cricchi, invitandoli domenica 5 giugno a votare la lista numero 1 insieme per Simeri Cricchi. Proponiamo di fare un cambiamento. Un cambiamento radicale, soprattutto nel modo di gestire la cosa pubblica. Sarò banale, ma ritengo che vi sia un principio cardine. Cioè quello che nell'orto del Signore devono vivere tutti e avere tutti la possibilità di sfruttare le opportunità. e non per soli pochi eletti. Andrete a votare una sorta di referendum tra il vecchio, che avete già avuto modo di giudicare, ed il nuovo. Ciao ciao. Ah, un'ultima cosa. Chi vince dunque? Io. Ma credo io. Al prossimo video. Grazie a tutti.